Ti sei mai chiesto quale sia il cane che combina la forza di un bovaro con l'affetto di un amico fedele? Prima di iniziare, iscriviti per vedere altri contenuti come questo. Parliamo del bovaro del Bernese. Questo magnifico cane ha origini nelle fredde montagne della Svizzera, precisamente nella regione di Berna. Da secoli è stato utilizzato come cane da lavoro nelle fattorie, aiutando nell'aratura dei campi e nel trasporto del latte, Con un peso che varia dai 30 ai 40 kg e un'altezza che può raggiungere i 70 cm, il bovaro del Bernese ha un aspetto imponente. Il suo mantello tricolore, nero, bianco e rosso ruggine, è lungo e liscio, e le sue orecchie a forma di V, G, conferiscono un aspetto distintivo. Ma non è solo il suo aspetto che colpisce. Questo cane è noto per il suo temperamento calmo e il suo affetto incondizionato verso la famiglia. È particolarmente paziente con i bambini e si relaziona bene con altri animali. Se stai pensando di adottare un bovaro del Bernese, sappi che ha bisogno di un bambino.